Il tema è innanzitutto ringrazio Maurizio per aver dato spazio in questa diciamo in questo evento che è sempre molto concentrato sul tema dell'urbanistica giustamente dell'edilizia sul tema Salva Milano che da un anno ci portiamo e anche l'anno scorso mi ricordo ne discutemmo per affrontare un tema che secondo me è parimenti importante per lo sviluppo del paese ma parliamo di Milano, parliamo di Roma, parliamo di tutto il paese. Il tema del codice appalti e oggi è un tema molto caldo perché siamo a un anno sostanzialmente dall'approvazione del codice quindi dall'entrata in vigore del codice. Sappiamo che il codice è entrato in vigore il primo marzo poi è diventato efficace il primo luglio del 2023 e quindi ormai abbiamo un anno di applicazione. Quest'anno di applicazione ha portato diversi riflessioni. Come nasce diciamo questo nuovo testo? Non avevamo direttive nuove da attuare però avevamo un quadro normativo che a seguito del covid si era completamente spezzettato. Quindi avevamo diverse norme di semplificazione che erano state introdotte durante il periodo del covid proprio per agevolare la realizzazione delle opere, delle infrastrutture e qui anche la connessione poi in tutto il mondo anche dell'urbanistica. in questo in queste norme avevano portato a diciamo a togliere un po' svuotare il codice del 2016 quindi a questo punto il codice e la nuova normativa diventa un elemento di attuazione del PNRR diventa un milestone quindi diventa un obiettivo che per ottenere i fondi del PNRR si doveva realizzare. E quindi iniziano i lavori e sappiamo bene che i lavori sono stati dati al Consiglio di Stato e quindi il codice risente molto anche della giurisprudenza amministrativa e risente peraltro in operazione che devo dire a un anno da potremmo dire che ha avuto dei buoni risultati. Ci sono molte questioni ancora aperte e quindi anche il tema è caldo perché oggi è in discussione il correttivo al codice però il codice chiaramente crea, il nuovo codice dei contratti pubblici crea una novità crea una novità che è data anzitutto dal tema dei principi. Cioè prima il codice precedente ragionava in termini di definizioni, ora la prima parte del codice come sappiamo è dedicata ai principi, il principio di risultato, il principio di fiducia e il principio di risultato in contrapposizione o diciamo in collegamento con quello della concorrenza. E qui è nata poi anche un po' di giurisprudenza importante, anche contraddittoria fra sentenze anche dello stesso Consiglio di Stato nella prima applicazione se debba prevalere o come debba essere inteso il principio della fiducia, il principio del risultato piuttosto rispetto al principio della concorrenza. Quindi è un tema delicato che diciamo ad oggi ha già qualche pronuncia rilevante. Dall'altra poi c'è il tema del correttivo. Allora poi adesso nel panel vi dirò, insomma affronteremo i singoli argomenti però il tema del correttivo è importante perché al Ministero delle Infrastrutture hanno fatto anche una consultazione pubblica e stanno lavorando su una serie di punti. I punti principali su cui la riforma del codice potrebbe essere attuata riguardano innanzitutto il tema del partenariato pubblico privato perché in base all'indicazione della Commissione europea che ha sollevato anche il tema per cui il partenariato, il project financing non ha come unico elemento di valutazione o comunque da considerare solamente la parte diciamo della prelazione ma di verificare anche altri strumenti allora si sta ripensando anche all'intero quadro normativo del PPP che peraltro era stato fortemente innovato anche dal nuovo codice. Altro tema molto aperto e oggetto di esame del correttivo è quello dei contratti collettivi nazionali applicabili mi riferisco all'articolo 11 dove c'è stato molto dibattito da parte delle imprese e vedremo adesso ad oggi non abbiamo dei testi perché ancora al Ministero del Lavoro su questo ancora il governo non ha tirato fuori diciamo delle norme non sappiamo nemmeno se siano solo questi argomenti o anche altri però diciamo che i temi all'esame, le commissioni che sono all'interno del Ministero che le stanno valutando sono queste. Poi c'è il tema del CCT sappiamo che il Collegio Construttivo Tecnico ha determinato una grande semplificazione o comunque ha aiutato nell'ambito soprattutto dei contratti di lavori a risolvere, a evitare controversie che davanti al giudice ordinario hanno tempi enormi e lunghissimi. Però questo tema del CCT peraltro non ha trovato, ha trovato uno spazio diciamo applicativo molto basso rispetto agli appalti di servizi perché non è ben regolato, è nato come diciamo per i lavori e ha tutta una serie di problematiche che poi vedremo che non trovano rispondenze non trovano diciamo esplicitazioni nel codice rispetto agli appalti di servizi. Poi c'è il tema dell'ecocompenso e rispetto appunto anche e soprattutto rispetto alle attività di progettazione e questo è un altro tema oggetto di riesame da parte del governo e sarà oggetto anche di intervento, ne parleremo anche dopo. Poi c'è il tema della revisione prezzi, l'articolo 60 sappiamo che ha determinato diversi dibattiti perché la norma suscita critiche sul lato anche e soprattutto dei servizi, delle soglie che sono stabilite per la revisione prezzi. E diciamo la novità, forse la principale novità del codice e la digitalizzazione dell'intero processo di affidamento e dell'intero ciclo di vita in realtà dice il codice dei contratti quindi dall'affidamento fino all'esecuzione. Ad oggi diciamo che sappiamo bene che ci sono state delle problematiche relative alla prima fase, cioè c'è stata ad oggi la digitalizzazione completa della fase fino all'affidamento. Manca e partirà adesso e su questo anche il Ministero sta lavorando la digitalizzazione della fase di esecuzione dove in realtà è la fase più importante perché se venissero digitalizzati e comunque acquisiti tutti i dati relative a tutti i contratti pubblici nella fase di esecuzione capite bene che avremo un patrimonio diciamo inestimabile di dati anche per valutare l'andamento dei contratti per valutare diciamo anche quello che poi è l'anomalia degli appalti pubblici che in realtà magari le gare hanno un andamento più o meno di una durata comprensibile poi la fase dell'esecuzione con le varianti, con le modifiche cambia diciamo si estende e con i contenziosi diventa diciamo blocca magari le opere. C'è il tema anche innovativo della qualificazione delle stazioni appaltanti che è anche questo il cuore della nuova normativa cioè se noi vogliamo avere degli appalti o delle concessioni che siano di livello o comunque attuare dei project financing dobbiamo avere delle stazioni appaltanti qualificate. La qualificazione ad oggi si è diciamo l'ANAC ha finito il processo di qualificazione lato affidamento quindi fino alla parte diciamo della giudicazione ma la parte dell'esecuzione ancora manca quindi anche qui bisognerà capire come si sbuca cioè un problema è le stazioni appaltanti qualificate per l'esecuzione non possono essere le stazioni appaltanti centrali cioè le centrali di committenza o le CUC quelle che sono poi le centrali che aggregano diciamo più enti locali o le province perché nessuno ha una struttura tale da poter gestire con i direttori lavori, l'UCC eccetera l'esecuzione di più contratti quindi sarà un problema verificare poi sulla parte esecutiva come effettivamente si qualificheranno le stazioni appaltanti e su questo sta anche lavorando il Ministero insieme con l'ANAC Oggi i panel sono appunto andando diciamo poi direttamente così non rubo spazio insieme ai legislatori sono dedicati a due argomenti principali che sono poi quelli di cui vi ho appena accennato il tema dei servizi perché è un tema anche molto trascurato o comunque rispetto alle infrastrutture sempre messo diciamo in una parte minoritaria tra l'altro è invece il tema secondo me uno dei più importanti perché a partire dal tema della progettazione dove si blocca poi anche la realizzazione dell'opera e dove parleremo appunto della fase di quello che sono le problematiche dalla fase di affidamento fino alla giudicazione e poi la fase di esecuzione e l'altro panel sarà dedicato ai partenariati quindi a tutto quello che è la novità la criticità e le prospettive di riforma di partenariati pubblico privati che sono stati poi definiti chiariti anche con la nuova normativa quindi io inviterei sul palco diciamo il primo panel gli avvocati del primo panel allora abbiamo discusso nella preparazione di questo incontro abbiamo discusso moltissimo su come tagliarlo perché che gli appalti siano fondamentali nel sistema economico di questo paese è pacifico che sia un paese che è stato nel passato all'avanguardia nella realizzazione delle infrastrutture nel periodo della ricostruzione dopo l'ultimo conflitto mondiale è altrettanto vero che sia un paese che ha perso tutte le opportunità che poteva perdere dal fatto di fare un meraviglioso bellissimo porto merci ma non collegarlo poi con il resto d'Europa tanto per dirne una abbiamo sicuramente quindi tutto questo ci porterebbe a parlare di infrastrutture la verità è che non si fanno infrastrutture se non si fanno i progetti delle infrastrutture e se non si fa abbastanza attenzione a come fare questi progetti è difficile poi poter realizzare le opere ragione per la quale con la valanga dei soldi del PNRR cosa abbiamo fatto? siamo andati a guardare che cosa c'eravamo nel cassetto e allora abbiamo deciso di parlare di servizi perché anche adesso facciamo tante chiacchiere sulla digitalizzazione ma anche fare un progetto di digitalizzazione abbiamo sentito stamattina che la digitalizzazione costa tantissimo quindi con ogni probabilità siamo sopra soglia e quindi anche lì abbiamo qualche problemino quindi io adesso passo la parola credo che prima a parlare sia Alessio Genito se non vado errato vado errato? no, 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 credo che sia ma so che anche Marco però c'è un aereo che lo aspetta quindi va bene allora direi Alessio perché comincerei da te per fare un pochino il punto proprio su questo quello che ho detto cosa sta facendo nell'ambito della digitalizzazione la pubblica amministrazione e aggiungo un qualcosa che sicuramente Alessio avrà modo di ripetere meglio di me non si fa rigenerazione urbana senza conoscere la legittimità del titolo edilizio non si conosce la legittimità del titolo edilizio se non si ha il titolo edilizio il peccato che il titolo edilizio sia normalmente su carta e normalmente non si sappia dov'è Alessio a te grazie grazie Riccardo partirei proprio da questo spunto e cioè da come dire il segno di un oiato di una distanza abissale si è parlato di digitalizzazione si è parlato della digitalizzazione come un obiettivo diciamo fondante del nuovo codice della riforma ed è senz'altro così la distanza c'è diciamo tra la digitalizzazione e l'innovazione che il codice diciamo in qualche modo vuole incentivare ed incentiva con la pratica come dire edilizia quotidiana e cioè proprio il tema a cui tu facevi riferimento cioè la distanza tra una come dire innovazione una ricerca di innovazione e invece un'antica prassi che fatica diciamo ad innovarsi all'interno degli uffici comunali quando si tratta poi di esibire tu facevi riferimento ai titoli edilizi e in generale alle informazioni legate diciamo proprio alla come dire alla consistenza storica dell'immobile sul quale si vuole operare e qui mi riferisco sia ad immobili pubblici che immobili privati diciamo si segna c'è una resistenza all'interno delle pubbliche amministrazioni ad arrivare ad una digitalizzazione all'interno diciamo degli uffici e degli archivi comunali dove vengono appunto archiviate le pratiche edilizie e i titoli edilizi è una resistenza che diciamo deriva forse in gran parte anche da un problema del personale della pubblica amministrazione dello scarso turnover all'interno degli uffici che quindi di fatto come dire lega ancora una difficoltà a attivare una digitalizzazione completa ma credo che ci sia e in questo penso il codice nuovo possa dare un contributo in termini in cui proverò un po' brevissimamente a tratteggiare ci sia anche come dire un tema di strumenti cioè venendo proprio alla questione degli appalti di servizi cioè che i comuni voi con risorse diciamo derivanti dal PNRR incrociate anche dalle regioni stanno procedendo come dire a macchia all'aeropardo ovviamente ad una progressiva digitalizzazione della documentazione all'interno degli archivi all'interno appunto degli uffici dove vengono conservate le pratiche edilizie ma diciamo entrambi gli strumenti che si stanno utilizzando non riescono ad essere pienamente efficaci perché lo strumento che viene utilizzato è o l'appalto di servizi diciamo strettamente inteso e quindi si vada a esternalizzare ad un operatore economico diciamo come dire la digitalizzazione del materiale cartaceo tecnicamente con importi tu dicevi giustamente anche considerevoli l'altro strumento invece è la concessione di questo tipo di servizio e quindi si va a dire all'operatore economico tu gestisci diciamo l'ufficio e quindi l'archivio con una corresponsione diciamo che deriva al di là dei sostegni che possono arrivare anche direttamente dal comune che va a affidare questa concessione che però ha una remunerazione che deriva direttamente dal pagamento dei diritti di segreteria dei soggetti diciamo degli operatori che vanno a interagire con l'ufficio è evidente che entrambi gli strumenti utilizzati determinano un'insufficienza rispetto ad una completa digitalizzazione dell'ufficio e delle pratiche perché la concessione del servizio a meno che non vi sia e questo accade per diciamo i comuni più strutturati che hanno magari più capacità di spesa difficilmente arriva ad essere una digitalizzazione un'archiviazione complessiva delle pratiche dei documenti all'interno diciamo dell'archivio e dell'ufficio e quindi con una non completa pulizia e archiviazione diciamo di tutte le pratiche dall'altro lato un appalto diciamo unicamente di un appalto di servizi quindi nella classica impostazione offro diciamo una prestazione previo appunto corrispettivo non riesce a arrivare a gestire compiutamente la gestione dell'ufficio ma solo una parte e cioè la digitalizzazione del materiale cartaceo che è una parte della digitalizzazione ma la digitalizzazione complessiva deve investire gioco forza anche la gestione dell'ufficio dell'ufficio complessivamente inteso io come dire sono toscano vedevo i dati diciamo della digitalizzazione degli uffici comunali nella mia regione di provenienza ed è ancora eppure diciamo che ha investito anche in maniera considerevole è ancora una digitalizzazione diciamo parziale se si considera che diciamo come dire sia i comuni che vanno ad adottare una una come dire un appalto quindi vanno a formulare un appalto di servizio non riescono vuoi perché hanno strumenti loro propri quindi non si affidano ad operatori specializzati nella gestione dello strumento ad avere una gestione totalmente digitalizzata dell'ufficio e quindi dell'ufficio e delle pratiche edilizie vuoi perché spesso non si va ad affidare appunto la gestione stessa diciamo dell'ufficio non si esternalizza la gestione come il nuovo codice può diciamo supportare questo ora è ovvio che il codice non ha diciamo una disciplina specifica per un appalto diciamo di servizi connesso ad una digitalizzazione ben che meno ad una digitalizzazione delle pratiche edilizie però ci sono secondo me due elementi che dovremmo provare a considerare il primo è come dire sfruttare quello che il codice dice in materia proprio della progettazione connessa ovviamente ai lavori quindi mi riferisco al famoso BIM alla procedura diciamo che consente alla strumentazione diciamo al procedimento tecnologico che consente di mettere in rete tutte le varie informazioni connesse alla progettazione di quella determinata opera pubblica anche se poi il BIM viene utilizzato sempre in maniera diciamo crescente anche nel settore privato nel settore delle opere private degli appalti privati perché occorrerebbe su questo arrivare ad un'implementazione amministrativa di questo strumento cioè riuscire a con anche risorse diciamo che dovrebbero essere ingenti riuscire a connettere non solo le informazioni diciamo tecniche costruttive legate a quell'immobile ma le informazioni diciamo così anche amministrative legali questo consentirebbe in qualche modo di procedere ad una digitalizzazione indiretta quindi questa implementazione amministrativa potrebbe essere diciamo una strada da percorrere in un tentativo di connessione diciamo tra il BIM diciamo quindi la questione della progettazione relativa ad un'opera e il titolo edilizio e questa è una pratica che in realtà diciamo non in Italia ma in in paesi stranieri stanno già sperimentando quindi la possibilità di connettere il BIM e quindi la fase di progettazione allo stesso titolo edilizio ottenendo diciamo come dire una digitalizzazione se vogliamo in diretta non con uno strumento specifico apposta connesso a questo l'altro elemento e poi arrivo a arrivo a concludere credo ci debba essere e ci possa essere anche rispetto alla questione che tu ponevi conclusivamente sulla rigenerazione urbana un ruolo dell'operatore economico e quindi del privato che possa in qualche modo anche attraverso forme di partenariato connesse ai servizi farsi promotore diciamo di progetti di digitalizzazione complessiva questo come dire sarebbe un circuito anche eventualmente come dire di implementazione e di innovazione che garantirebbe anche da un punto di vista lato diciamo del privato un beneficio anche in diretto poi per le successive successive operazioni perché si arriverebbe ad una come dire ad una complessiva di digitalizzazione di quel determinato di quel determinato archivio e lato diciamo pubblica amministrazione anche la possibilità di arrivare senza diciamo come dire strumenti per i quali siamo in attesa o l'amministrazione deve essere in attesa di un finanziamento arrivare ad una progressiva digitalizzazione indiretta cioè realizzare quella piattaforma di scambio diciamo tra privato e pubblica amministrazione sin dalla fase della programmazione dell'intervento e quindi riuscire a rendere il privato come dire attore anche non solo della fase successiva penso al partenariato e quindi come dire tutta la procedura come cristallizzata nel codice ma anche nella fase preliminare di screening di individuazione degli asset perché se il privato si rende protagonista anche di quella fase preliminare la radiografia diciamo dell'operazione questo vale ovviamente per gli immobili per gli immobili pubblici è in qualche modo già fatta ecco e credo che questo possa essere diciamo lo strumento da poter investigare per arrivare ad una digitalizzazione completa che ancora manca ed è come dire un grosso problema in termini di competitività all'interno cioè per le pratiche immobiliari ovviamente adesso grazie mille adesso la parola a Marco Monaco del quale io appartiene alla mia lunga schiera di discepoli ma oggi sembra che li debba incontrare tutti qui è una una piccola scuola e allora una un commento su questo su quello che ha detto Alessio sta nel fatto che noi abbiamo una situazione strana nella nostra pubblica amministrazione perché teoricamente dovremmo avere degli si dovrebbero dotare di strumenti per i quali la verifica il progettuale la verifica della conformità urbanistica edilizia eccetera eccetera attraverso la sovrapposizione di planimetrie attraverso una digitalizzazione e raccolta di tutte le norme e di vincoli pensate solamente al mistero degli usi civici che nessuno sa bene dove sono come sono perché ci sono però si comportano delle conseguenze drammatiche perché generano dei vincoli ambientali perenni anche dopo la cessazione dell'uso civico per cui sarà per sempre vincolato sotto il profilo ambientale eppure tutto questo noi nelle nostre amministrazioni tutti noi abbiamo avuto esperienza di certificati di destinazione urbanistica che dicono tutto il contrario di tutto ma soprattutto non dicono il vero quindi Marco a te la parola ti do il microfono c'è la grazie mille per l'invito all'organizzazione chiaramente è un piacere essere qui in un evento così importante un ringraziamento una mozione degli affetti anche al maestro al mio vate il cardo dell'isande quindi me lo consentirete perché è veramente ho iniziato con lui avevo i calzoni corti quindi non ero neanche un allievo ero all'asilo quando ho incontrato lui quindi praticamente mi ha letteralmente cresciuto quindi come si dice dalle mie parti il tema di oggi è molto interessante perché collegandomi anche sia al precedente intervento della collega inquadramento di massima delle novità del codice sia all'ultimo invece intervento alcune novità sono particolarmente rilevanti proprio perché finalmente il legislatore ha deciso di dare uno spazio alle legittime pretese aspettative anche dei privati nell'ambito dell'attuazione dei contratti queste pretese queste aspettative prima dovevano essere necessariamente riconosciute da parte della della giurisprudenza dovevano sfociare necessariamente in una pretesa giurisdizionale riconosciuta eventualmente o meno da un giudice oggi il legislatore con il nuovo codice è partito invece da una serie di principi il principio della fiducia il principio del risultato per quanto riguarda appunto l'affidamento e l'attuazione degli appalti e poi ne ha introdotto un altro che è particolarmente utile per anche le valutazioni che ci poneva le suggestioni che ci poneva Riccardo cioè è il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale oggi è previsto dal nostro ordinamento che se c'è un intervenio se c'è un evento imprevisto che fa modificare l'equilibrio contrattuale da una parte o dall'altra quindi a favore del privato ma anche a favore del pubblico ci si debba necessariamente sedere intorno a un tavolo rinegoziare quindi le condizioni del contratto già firmato e ristabilire l'equilibrio contrattuale il fatto che sia contenuto all'interno di una norma di legge questo questo principio secondo la dottrina dà addirittura il diritto ad ottenere a chiedere a chiedere chiedo scusa la rinegoziazione contrattuale il codice fa qualcosa in più il codice dice le stazioni appaltanti sono invitati ad inserire all'interno degli atti di cara delle clausole per disciplinare come procederanno a rinegoziare il contratto in caso di eventi che non sono gestibili in questo momento ma nell'articolo che riguarda le modifiche al contratto fa di più afferma che se non è stata prevista dalla stazione appaltante una clausola di rinegoziazione all'interno del bando la parte svantaggiata quindi potrebbe essere anche la parte pubblica in teoria può chiedere di rinegoziare il contratto se la parte privata chiederlo il RUP deve entro 90 giorni rispondere alla richiesta di rinegoziazione del contratto non è una pretesa alla quale come succedeva spesso la stazione appaltante può permettersi anche di non rispondere con il classico silenzio che poi diventa non impugnabile perché non è un diritto ricevere la risposta oggi è un diritto ricevere la risposta questo fa in modo che invece di trovarsi in mezzo al guado con opere che magari non vengono finite con servizi che finiscono con avere clamorose perdite perché la stazione appaltante si rende conto che deve affidare un qualcosa che non poteva affidare prima perché ha sbagliato a predisporre il DIP il documento di indirizzo alla progettazione oppure non ha inserito i famosi elaborati di georeferenzazione dell'opera e quindi ha sbagliato a fare i servizi di progettazione tenete conto che oggi l'errore progettuale non è riportato chiaramente tra le cause che danno ditta le varianti dobbiamo ricavare noi che questo è possibile l'errore dà diritto a richiedere una responsabilità del verificatore che non si accorge dell'errore ma non è più riportato tra le ipotesi che danno diritto a chiedere una variante non è così esplicito però l'errore ci può essere allora come si sana l'errore con una procedura di rinegoziazione contrattuale prima dovevi invocare un eccessivo conerosità sopravvenuta del contratto minacciare di demolire il contratto di risolverlo forse la stazione appaltante ti veniva incontro ma nella stragrande maggioranza dei casi dovevi necessariamente poi interrompere il rapporto oggi il funzionario pubblico che teme che aveva paura di firmare il contratto che la variante la modifica del contratto ha sicuramente una base un presupposto per operare questa rinegoziazione e lo fa con una serenità che prima non aveva perché prima diceva ma chi me lo fa fare ma fammi causa per eccessivo onerosità sopravvenuta e il servizio si interrompe ma vai non è affarmi io non è sicuramente una mia preoccupazione oggi invece c'è questo rimedio è chiaro che ne parleremo diffusamente magari ma è una ipotesi che può essere anche demandata ai collegi consultivi tecnici ricordiamo che anche nei servizi c'è l'obbligo di costituire il collegio consultivo tecnico per dirimere controversie che nascono nell'ambito dell'esecuzione del contratto un eventuale mancato accordo sulla rinegoziazione contrattuale può essere oggetto di parere al collegio consultivo tecnico se non addirittura di determinazione contrattuale eventi e valore di lodo quindi il codice si è preoccupato di cercare di evitare che i rapporti contrattuali finiscano su un binario morto finiscono in un contenzioso che da noi può durare anche vent'anni i famosi tre gradi di giudizio di cui si parlava prima ma l'ha fatto con strumenti secondo me intelligenti con strumenti che potranno offrire risultato ed è proprio questo secondo me il vero grande diciamo la vera grande innovazione del codice aver ancorato al principio del risultato l'esecuzione del contratto pubblico marco grazie mille maria angela adesso direi che tu che sei molto più esperta di me in fatto di appalti perché io non ci capisco nulla io mi affido a voi mi occupo di urbanistica e lì sto bene vorrei che tu tirassi anche un pochino le conclusioni di questa cosa perché noi abbiamo ancora più o meno 20 minuti per poter quindi possiamo fare un secondo round se del caso però vorrei proprio avere da te spunti ne abbiamo tirati fuori sì volevo chiusare i vari interventi che sono stati tutti molto puntuali e opportuni digitalizzazione partendo da quella che è una delle grandi novità e che può essere d'aiuto di esempio perché diciamo oggi siamo i primi in Europa aver tutto digitalizzato dalla fase di programmazione in teoria la programmazione ancora deve essere totalmente digitalizzata ma comunque tutta la fase di affidamento fino all'aggiudicazione ormai ci sono delle piattaforme tutte certificate tutte diciamo dovrebbero essere connessi adesso ci sono delle problematiche relative alla connessione delle banche dati perché come diceva il collega non solo gli uffici comunali ma le procure non danno i dati cioè c'è difficoltà fra diciamo grandi amministrazioni anche di fornire i dati perché fornire i dati vuol dire mettere in connessione le banche dati vuol dire semplificare i processi che vuol dire garantire di avere la parità di trattamento di tutti vuol dire anche semplificare la vita degli operatori economici che quando vanno a partecipare alla gara hanno un fascicolo dove loro non devono fare le dichiarazioni ma tutto è lì presente e questo dovrebbe essere lato urbanistica cioè parimenti e ricordo che il codice dell'amministrazione digitale risale al 2005 e lì si diceva proprio per venire diciamo a quello che diceva il collega che l'atto originale è l'atto informatico quindi se oggi noi stiamo ancora discutendo che non hanno digitalizzato i progetti che dovevano essere tutti gli atti amministrativi compresi anche la progettazione comunque doveva essere tutta già in formato informatico come atto diciamo anzi originale al posto di quello cartaceo vuol dire che siamo ancora indietro però secondo me il codice sta dando una grande spinta e quindi saremo peraltro primi in Europa a fare questo lavoro quindi sarei positivo in questo anche perché al ministero abbiamo visto un attimo i lavori che stanno svolgendo e penso che siano con un po' di difficoltà però superando alcune criticità la parte che diceva il collega Monaco dell'equilibrio contrattuale e questo è un altro elemento che nasce post-covid perché prima diciamo il tema della revisione prezzi era stato tolto addirittura nel codice precedente c'era diciamo una norma che non consentiva di fare diciamo effettivamente la revisione prezzi oggi dopo il covid e quindi tutto quello che ha determinato il covid ci si è resi conto che diciamo c'era uno squilibrio e che non era più sostenibile e da lì la normativa sulla revisione prezzi e la normativa sulle varianti che anche lì dà spazio diciamo secondo me a una maggiore equilibrio pubblico e privato siamo ancora in difficoltà sulla revisione prezzi perché la norma come dicevo ha delle criticità perché ci sono delle soglie si può fare la revisione dei prezzi sopra il 5% se il valore di variazione supera il 5% e nel limite dell'80% questo è stato oggetto del correttivo sarà oggetto del correttivo perché soprattutto nei servizi superare quella soglia di variazione è molto difficile quindi bisogna abbassare la soglia cioè per poter consentire più facilmente la revisione prezzi però però c'è la norma prima non c'era diciamo e quindi già che ne discutiamo secondo me è un passo avanti il tema del BIM anche lì stanno intervenendo perché il BIM diventa obbligatorio al primo gennaio 25 speriamo che non lo rinvino perché un problema è che appunto le amministrazioni non sono attrezzate per fare questo tipo di lavoro la parte privata sì la parte pubblica no quindi si rischia soprattutto perché c'è una soglia di valore degli appalti molto bassa cioè diventa obbligatorio per gli appalti superiore a un milione di euro capiamo che è una soglia che include quasi tutti gli appalti di questo tipo per cui o si rivedrà questa soglia o si deve fornire l'amministrazione come si diceva degli strumenti idonei per poter sviluppare questo tipo di cioè il BIM sostanzialmente che sarebbe effettivamente di aiuto anche per sviluppare meglio i progetti pubblici e quindi anche realizzare le opere in maniera più semplice i temi sarebbero tanti c'è il tema dell'ecocompenso c'è il tema oggi dell'ecocompenso rispetto all'attività della progettazione sappiamo che c'è la norma che prevede la nullità delle clausole che sono in violazione dell'ecocompenso sappiamo anche che però ci sono pareri dell'ANAC che dicono no l'ecocompenso non può andare contro la concorrenza e quindi non si possono consentire delle offerte anche in ribasso rispetto diciamo alle soglie minime delle tariffe dell'attività di progettazione e dall'altra però abbiamo la giurisprudenza che ci dice no l'ecocompenso deve essere considerato quindi non si può andare sotto queste soglie quindi adesso il legislatore ha in mano questo tema bisogna vedere come fa come come mette in equilibrio le due le due questioni però è un tema che prima non si poneva secondo me è anche un tema giusto porre porlo adesso cioè è anche aiuta le categorie gli operatori economici a cercare di trovare delle soluzioni che prima nemmeno si ponevano cioè i problemi rimanevano chiusi nei cassetti e si trovava solo difficoltà a lavorare oggi almeno sono sul tavolo il tema dei servizi è ancora oggetto di cioè è ancora secondo me necessario svilupparlo meglio perché diciamo il retaggio degli appalti è sempre quello per cui la normativa nasce come normativa sugli appalti di lavori e poi si adatta agli appalti di servizi quindi bisognerà diciamo ancora lavorare su alcune norme secondo me che portano a diciamo anche a distinguere la disciplina fra lavori e servizi per dare maggiore spazio o maggiore attenzione alle problematiche che si hanno negli appalti di servizi che non si hanno negli appalti di lavori dalla qualificazione anche qui il tema della qualificazione è importante adesso ci sarà una revisione sul tema della qualificazione degli operatori economici sui servizi rispetto ai lavori sono tutte tematiche adesso sarebbero da parlare ora ma mi fermo su cui diciamo il codice mette comunque sul campo degli argomenti o delle questioni che se sviluppate anche nella concreta applicazione potranno secondo me portare un vantaggio sia per la pubblica amministrazione sia per chi lavora nel settore grazie Maria Angela io mi sono trovato più di una volta in una situazione imbarazzante nei confronti della pubblica amministrazione che non sapendo noi tendenzialmente ad oggi nel passato abbiamo rappresentato moltissime amministrazioni pubbliche ma tendenzialmente rappresentiamo la parte privata soprattutto le amministrazioni più piccole non sanno come scrivere i documenti di gara e non sai quante volte mi viene suggerito quando io vado lì per suggerirgli qualche opera qualcosa cioè di fare degli interventi mi viene suggerito di scrivere per conto dell'amministrazione i documenti di gara ovviamente la mia risposta è che voi siete matti perché io non ho nessuna intenzione di andare a spiegare questa cosa al procuratore della repubblica però questo ti dà la sensazione di amministrazioni che non sono solamente il comune di Milano o il comune di Roma o il ministero di qua o il ministero di là ma ci sono soprattutto quando parli di logistica quando parli di data center e tutte queste robe qui ci sono amministrazioni che hanno necessità di avere di avere consulenza di avere supporto e ci sono degli operatori che sono sarebbero ben felici di pagare singolarmente o collettivamente all'amministrazione i fondi necessari perché l'amministrazione si doti di servizi idonei sinceramente non sono ancora riuscito a capire come si fa una battuta su questo la qualificazione delle stazioni appaltanti così si fa cioè si dovrebbero quello che ha scritto diciamo il legislatore del codice è basta gli 8000 comuni che fanno ognuno il suo appalto che non hanno le strutture facciamo le stazioni appaltanti qualificate poi parliamo delle centrali di committenza che già ci sono che sono qualificate da Consipa alle centrali regionali però c'è un processo c'è stata una selezione quindi un punto nodale è far bene questa qualificazione di stazioni appaltanti perché quelle dovrebbero essere quelle che non hanno necessità di chiedere ma di avere il loro internamente consulenti o le capacità alla formazione per poter fare gli appalti senza alcuna difficoltà su questo secondo me un aspetto critico è che l'ANAC ha fatto la qualificazione delle stazioni appaltanti si sono ridotte notevolmente ma è stata una qualificazione abbastanza leggera cioè i criteri di qualificazione l'ho fatto anch'io per alcune stazioni appaltanti che seguo gli ho compilato il modulo sono criteri abbastanza generici generali se hai questo se hai RUP se questo ha fatto una formazione allora stringiamo questi criteri e non voglio sapere cosa si farà sulla qualificazione della parte per l'esecuzione perché lì già mi stanno dicendo che sono già qualificati quelli che sono qualificati per la parte di affidamento e quindi già questo e poi ora però le centrali le CUC sono le centrali committenza uniche per i comuni cioè dove più comuni danno affidamento a una centrale ma si prenderanno carico di fare l'esecuzione degli appalti di ogni singolo comune hanno la struttura dei direttori dei RUP per farlo no allora ogni singolo comune dovrà comunque seguirsi il suo appalto ma allora ritorniamo al problema quindi bisognerà su questo e del lavoro che dovranno fare nel 2025 trovare secondo me delle task force per singoli soggetti per singole diciamo amministrazioni a livello provinciale a livello regionale per poter dare un supporto e per evitare che vengono a chiedere a te allora una battuta per ciascuno perché come sempre mi è stato ricordato che avevo cinque minuti tre minuti fa rapidissimamente una battuta è questa diciamo credo che un impatto al netto delle novità che giustamente la collega tratteggiava che saranno definite in sede di correttivo vale diciamo quello che è badire il consiglio di stato su questo codice sullo schema originario cioè ci sarà una parte che dovrà essere attuata attraverso diciamo come dire movimenti non legislativi e non quindi di norme di diritto positivo ma attraverso come dire da un lato la riqualificazione intesa a tecnico diciamo delle strutture delle amministrazioni dall'altro dalla formazione del personale che lavora all'interno delle amministrazioni stesse fino a che non ci sarà questa completa definizione si rischia sempre appunto di come dire non tentennare nella piena attuazione che pure come dire ha avuto una spinta positiva quindi credo che accanto diciamo alle novità normative necessarie e correttive necessarie ci sia la necessità di dare impulso anche a questo tipo di impostazione e di prassi diciamo Marco a te beh c'è il rischio che il codice sia il codice dei contratti pubblici sia un'occasione sprecata dobbiamo dirlo teniamo conto che il precedente codice era del 2016 stava iniziando ad essere minimamente sedimentato è stato sostituito da questa nuova da questa nuova da questa nuova norma io chiudo effettivamente con una battuta il mio maestro mi diceva che è vero c'è confusione di norme norme che si succedono norme che che diciamo una dopo l'altra possono creare lo scompiglio negli attuatori nei funzionari pubblici però è pur vero che ci esistono gli avvocati gli interpreti e di qualcosa dovranno pur vivere grazie mille grazie mille